Da collezionista a collezionista. La collezione Art Hotel Gran Paradiso di Sorrento ospiterà per l'intera stagione 2024 la collezione Penna. Una storia di amicizia, stima e passione per l'arte che Mario Colonna, proprietario dell'albergo Art Hotel Gran Paradiso, ha voluto ribadire con questo regalo fatto a Cinzia e Renato Penna. Dalle sue parole il perché di questa iniziativa. La qualità delle opere è molto alta e mi auguro anche che si crei un interesse anche commerciale da parte dei nostri clienti che possono anche acquistare delle opere. I ospiti dell'albergo Sorrentino si troveranno quindi di fronte pitture, sculture, installazioni e fotografie che allieteranno il loro soggiorno con quel tocco in più di riflessione che non guasta neanche in vacanza. In mostra circa 70 artisti internazionali che hanno accompagnato i Penna in un lungo percorso ventennale di amore per l'arte e di impegno attraverso l'attività della loro istituzione culturale Art 1307 che ha visto scorrere nelle sale di tanti musei e gallerie e nelle pagine di tanti cataloghi opere di grande spessore concettuale. La mostra dal titolo Legacy è curata da Gabriella Esposito. Troverete una mostra estremamente ricca e eterogenea per tipologia di opere, di medium utilizzati e di stile e di movimenti. Un'eterogeneità che quindi manifesta proprio l'interesse ampio, sfaccettato e guidato dell'amore e della passione dell'associazione. Legacy si configura dunque come un itinerario artistico gioioso e multisfaccettato, costituito non soltanto da opere d'arte ma soprattutto da sguardi, esperienze e rappresentazioni come spiegano Renato e Cinzia Penna ai nostri microfoni. Abbiamo creato un interscambio, abbiamo creato cultura, culture diverse dove vi è accettazione dell'altro, del diverso, dell'altra persona e amore per l'arte. Questa è la cosa più bella di tutti. Come dice il titolo della mostra, che è Legacy, una storia di amore e di eredità culturale, in realtà è proprio una storia di amore tra tante persone e di comunità anche culturale perché è la comunità degli artisti che siamo riusciti a creare tra gli Stati Uniti, l'Italia e il Giappone, la comunità anche con tante persone che ci hanno seguito in questi anni e che continuano a venire alle nostre mostre con entusiasmo, l'entusiasmo più che altro della condivisione.